Complimenti, complimenti a Antonio Rosati, eccoci qui. Allora, in studio c'è Luca Rutili con i suoi ospiti, tra cui Marco Gori, che è un tuo grandissimo estimatore, che ha ritenuto più volte ingiuste certe critiche che ti sono state rivolte. Oggi possiamo dire che Rosati si prende una bella rivincita su chi era stato scettico nei suoi confronti. No, probabilmente dall'altra parte avrei criticato pure io, quindi... Era talmente palese l'errore nella partita precedente, quindi c'è poco da dire, ma sono sereno perché sono consapevole del lavoro che svolgo tutti i giorni, quindi il mio impegno è massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Poi è normale e logico che non sempre si riesce in campo quello che uno prova durante la settimana, però fa parte del gioco, quindi quando uno fa bene e accetta gli elogi da parte dei tifosi o voi giornalisti, così è giusto che uno accetti le critiche quando non fa bene, purché siano costruttive però, a volte le critiche gratuite fanno un po', no? Però va bene, fa parte del gioco, quindi niente. Ripeto, io sono sereno e poi la dimostrazione penso sia stato l'applauso pre-gara. Ti ha fatto tanto piacere, eh? Molto, emozionato diciamo. Si è arrivato un grande applauso alla tribuna della Curva Nord per Antonio Rossati. Allora è tutto vostro, Luca? Abbastanza, abbastanza sì, diciamo che quello che leggevo durante l'estate non era proprio confortevole, no? Però, ripeto, io sono sicuro di quello che faccio e quello che è il mio lavoro. Poi, poi niente, le chiacchiere stanno a zero, lasciano il tempo che trovano. Quindi mi sono concentrato su quello che era il mio lavoro e niente. Forse, sì, come ha detto lei, l'esperienza, diciamo, un po' mi ha aiutato, l'età un po' mi ha aiutato a lasciarmi tutto alle spalle. Però sicuramente non sono stati momenti facili. Sì, questo l'ho sempre fatto, fa parte del mio carattere. Quindi quando c'è da metterci la faccia non mi tirò mai indietro. Sono consapevole che probabilmente se avessi preso la palla o fossi intervenuto in maniera corretta non si sarebbero notati altri errori. Quindi io riprendo la responsabilità assolutamente. E poi la ringrazio per il paragone che ha fatto prima. Beh, sicuramente nel pre-campionato diciamo che c'erano molte squadre da temere. E lo sono ancora, come Palermo, Frosinone, Empoli e via dicendo. E probabilmente erano anche davanti a noi. Ma queste prime giornate stanno comunque dimostrando quello che è sempre stata la Serie B. Nulla è scontato, nulla è scontato. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, a allenarci seriamente, a riproporre quello che il Ministro ci chiede. E cercheremo di continuare su questa strada. Ma non pensiamo troppo lontano, pensiamo gara dopo gara. Grazie. D'oggi anche il Perugia si può sentire favorito, oppure tra le favorite per la promozione di rap? No, ripeto, non me la sento di dirlo. Io voglio pensare gara dopo gara e non guardare troppo lontano. Perché forse è stato proprio questo che ci ha bloccato negli anni precedenti. Il fatto di raggiungere a tutti i costi quell'obiettivo forse in diverse occasioni ci ha penalizzato. E quindi, niente, lavoriamo serenamente e pensiamo partita dopo partita. Rosate, a chi dedica questa vittoria che comunque sarà determinata anche dai suoi interventi, come ricordava Cori? La dedico a me, a me stesso. A mia moglie, a miei bimbi che soffrono insieme a me. Complimenti, complimenti Antonio. Anche per la grande umanità di Antonio Rosati, la sua grande semplicità, sempre molto onesto, obiettivo. Un pizzico di commozione per Antonio che ringraziamo. È vero, ha superato un momento non facile e l'ha dimostrato con tutta la sua personalità. Prima, anche con Marco Gori, da studio, ha coperto anche qualche errore di troppo dei compagni di squadra e si prende lui le sue colpe. Complimenti davvero, complimenti Antonio. Grazie a tutti. Grazie, grazie Antonio Rosati. Anche un momento di commozione. Come avete visto, ci spiega proprio tutto lo spessore umano del giocatore, del portiere del Perugia, che è entrato definitivamente nei cuori dei tifosi e di tutto l'ambiente bianco-rosso.